Quello che è accaduto ieri è gravissimo e inaccettabile, quindi ho parlato personalmente con il prefetto ieri, oggi, tramite il capo di gabinetto anche con la questura e ovviamente con le altre forze in campo, il sindaco non può accettare quello che è accaduto ieri e non lo consentiremo più, perché come bloccare un'autostrada e come bloccare una linea principale all'interno del paese, la galleria Acton è una delle arterie principali della nostra città, quindi quello che è accaduto ieri non deve mai più accadere e io credo che sia compito di tutti saper dialogare con quello che accade e si agita nel conflitto sociale della nostra città. Io posso dire che come sindaco incontro ogni giorno persone che soffrono e addirittura in alcuni casi ho incontrato anche, come gli operatori sociosanitari, chi non ha rapporti formali con il comune, quindi credo che ci vuole molto senso di responsabilità e credo che ieri ci siano stati da parte di altri dei ritardi inaccettabili. Non si può consentire quello che è accaduto ieri perché se si interveniva prima da parte di chi aveva in qualche modo il dovere di farlo perché quelle vertenze appartenevano ad altri enti non si arrivava a quella situazione inaccettabile. Quindi da parte nostra disponibili ad ascoltare tutti così come credo che nei momenti di tensione anche altri, la regione ma anche la prefettura, devono mettere in campo ogni iniziativa per non consentire che una città possa correre un rischio gravissimo come è accaduto ieri perché così si mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini, la salute e l'ordine pubblico. Quindi sono intervenuto più volte ieri, oggi anche in modo molto fermo, quando c'è stato il rischio un'altra volta ho detto che per me è assolutamente improponibile l'idea che chiuda una galleria per una manifestazione di protesta. Quindi chi ha responsabilità primarie non può consentire che questo accada e per quanto mi riguarda questo non deve più accadere. Quindi si deve ragionare in termini di ascolto, di prevenzione, di attenzione, non si può avere un approccio burocratico, ogni istituzione deve farsi garante dell'ascolto con tutti i cittadini perché c'è tanta sofferenza e quindi io non banalizzo il disagio sociale ma nello stesso tempo non si può stare sette ore prima di intervenire. Questo è inaccettabile e mi auguro che quello che è accaduto ieri non accada mai più e soprattutto io non tollero più di essere spettatore passivo come sindaco di tutto quello che è accaduto e poi essere la nostra amministrazione, come dire, subire gli effetti collaterali. Per cui è un'avvertenza che attiene alla regione e la regione non è intervenuta. L'avvertenza dell'ordine pubblico non attiene al sindaco e intanto alla fine il problema in questa questione è la viabilità al cittadino. Quindi su questo io sono stato molto chiaro e Santina parte anche una mia lettera al signor prefetto per esprimere tutto il mio disappunto per quello che è accaduto nelle 48 ore precedenti e che non debba mai più accadere quello che è accaduto nei due giorni passati.